5 cose da sapere sulla strategia PIC 1. PIC sta per piano di investimento capitale. Consiste nell'investire in un'unica soluzione tutta la nostra liquidità. 2. Con questa modalità di investimento esiste la possibilità di entrare a mercato in un momento sfavorevole. Dovremmo essere così in grado di sopportare maggior rischio. 3. Il PIC ha statisticamente un rendimento superiore al PAC. Infatti, più tempo impiego ad investire il mio capitale, meno otterrò un guadagno da esso. 4. È possibile utilizzare il PIC per strutturare la maggior parte del nostro portafoglio e abbinarle la strategia PAC per una parte della componente azionaria, così da massimizzare le ore di sonno. 5. Tra la strategia PIC e la strategia PAC non esiste un vincitore. Se investire ti preoccupa, non è un problema di strategia, ma è un problema di gestione del rischio.